Ciao a tutti, io mi chiamo Claudia Sartorelli, ho 33 anni e vengo dalla provincia di Roma, precisamente Civita Vecchia. Nella vita sono un interior designer e lavoro per una grande azienda che distribuisce mobili a livello nazionale. Spesso e volentieri mi chiedono ma sei un influencer? Questa domanda mi fa sempre sorridere perché io non mi sento nessuno, non mi sento un influencer, mi sento me stessa e quindi cerco di trasmettere questo tramite i miei social. Io di sicuro quello che faccio lo faccio con grande passione e dedizione, quindi spero sempre di essere uno spunto creativo e di ispirazione per chi mi segue e per chi ha bisogno di uno spunto creativo. Ho aperto da quattro anni il mio blog che parla di moda, design, beauty e di tutto quello che riguarda la mia vita. Sono fidanzata da 11 anni con David che ahimè vive a Venezia per lavoro da ormai sei anni e ci vediamo pochissimo purtroppo, anche se dovremmo convivere perché abbiamo comprato casa, ma in realtà è in casa cinque giorni al mese, quindi ho più tempo per fare video per voi, mettiamola così. Sono super appassionata di moda, questo è quello che mi ha spinto ad aprire il mio blog, sono diciamo una shopping compulsiva, mia mamma da dietro la telecamera suggerisce. Spero ci seguirete in tantissime e forza team rock!